ciao a tutti amici del futsal e bentornati nella seconda puntata di mondo futsal se dobbiamo proprio dirla tutta la prima perché era la puntata zero quella precedente che avete potuto vedere presento il mio compagno roberto martin ciao compagno per modo di dire naturalmente ben trovato alessandro ben trovato a tutti gli spettatori di mondo futsal diamo inizio alle danze e che parliamo questa settimana parliamo ovviamente dell'incontro più importante che c'è stato quello tra gensano è così di gensano ed è l 84 al pala maggiore di torino un gensano infermabile roberto perché fa cinque su cinque è stata una partita molto tattica tra tra panice e marine giusto sì la partita che era tattica non era neanche ne era prevedibile però ovviamente è stata una grande prova di forza da parte del gensano io inizio stagione ero molto curioso di vedere l'approccio di david marine sulla formazione castellana e credo che abbia già dato le importanti risposte importantissime anche perché era una partita in cui le cosiddia aveva tante assenze e mennini in telecronaca ha detto è qui che si vede il valore di una vera squadra nei momenti di difficoltà il gruppo si unisce rossere rossere di notevole qualità quindi non scopriamo niente di nuovo insomma veniamo andiamo avanti andiamo avanti su questa su questa falsa riga cercando di capire quale saranno le potenziali avversarie a questo punto di un gensano che adesso è capolista a punteggio pieno per lo scherzetto dell'ambio del pareggio dell'eboli contro la came treviso che insomma vende sempre cara la pelle che ce l'abbiamo qui vicino la la mia came treviso è sì tu essendo trevigiano è ovviamente sì sono sempre seguito dai tempi della marca in poi e poi ne parleremo in futuro pure della celebre marca trevigiana assolutamente e marine vabbè che li fa andare a 2000 questi sono infermabili io li vedo pressare alto fino alla fine della partita ogni volta è successo un episodio no l'episodio di micheletto che è andato a sbattere contro il palo durante il gol di maxi rescia e l'arbitro ha fermato il gioco per regolamento regolamento che in questo caso è stato applicato correttamente eh sì se la porta si sposta se ferma il gioco e rimetterla a posto poi comunque è un periodo di di episodi arbitrali un po controversi pure lo scorso turno c'era stato qualche qualche reclamo fuori delle dighe poi anche nel nell'ultima gara del turno infrasettimanale quella tra petrarca e furtito comezza che c'è stato un gol contestato da parte dei dei veneti però dopo la partita è terminata secondo me con un giusto 3 3 a 3 e non sarebbe non sarebbe il caso di di mettere il var come abbiamo visto nei campionati del mondo no sarebbe rivoluzionario sì anche quello però l'abbiamo visto nel fratello maggior nel calcio 11 molte volte c'è anche è un po controverso no chi lo sostiene che non sostiene poi magari all'inizio tutti sono favorevoli perché è la novità poi dopo un po' ci si abitua ma abbiamo visto anche nel calcio e poi c'è la contestazione e tutto quanto credo che si andrà più verso un var a chiamata oppure un var come appunto alle competenze internazionali richiesto dal direttore di gara quando c'è un dubbio un po' su un caso come nella palla a volo un po' nel basket ormai c'è un po' dappertutto e credo che sia questo perché la tecnologia deve aiutare quindi assolutamente deve aiutare deve essere di supporto non deve essere diciamo millimetrico ogni volta vero e nell'anno 84 che cosa non ha funzionato secondo te ma secondo me non ha funzionato il risultato perché comunque la gara è stata è stata equilibrata giusto e poi ecco come dici basta un episodio una cosa controversa magari magari abbiamo visto un po' i giocatori storici che stavano un po' sotto tono mi viene da dire cozzolino che non mi è sembrato il solito cozzolino errore nell'ultimo nell'ultimo collo e poi anche un altro aspetto che roccia è stato abbastanza messo da parte da marine perché ha alzato il pressing che arrivavano pochi palloni ovviamente con un tipo di giocatore del genere cerchi di levar gli rivolimenti questo è un po la chiave tattica su cui ha lavorato genzano e mi sembra che poi sia ben riuscita ti dico la verità non me l'aspettavo una vittoria di questo di con questa con questa forza non me l'aspettavo mi aspettavo sicuramente una gara più in equilibrio invece il napoli napoli che ha vinto per 4 a 0 con gli altri nostri amici del benevento il napoli ha calato il poker servito la cosa che invece io sottolineo ma un po come casista che è stata consegnatura autocrone perché insomma quattro italiani a 4 italiani c'è tre italiani per la doppietta si è la doppietta di deluca e col di verugino e caruso insomma effettivamente raramente troviamo uno scorro con tutti italiani quindi mi piace attenzionare questa cosa perché poi è sempre il frutto della famosa polemica anche per la riforma dei formati e non formati però diciamo che questa cosa ci ha dato all'occhio la sottolineiamo con piacere anche per dare un buon viatico al nuovo corso della nazionale di sanperi di sanperi e diciamo speriamo che ci faranno divertire mi sembra che i segnali siano incoraggianti ma si è un napoli che comunque quello che poteva sembrare un momento di difficoltà dopo la sconfitta ad eboli che è un campo difficile fondamentalmente quattro vittorie 18 col fatti e tre subiti è un napoli che c'è è vivo e non è assolutamente in difficoltà va detto sappiamo la forza finalista scudetto sappiamo chi la guida in panchina sappiamo il roster che hanno a disposizione penso che non ci sta molto ad aggiungere la cosa che io aggiungerei che invece spesso viene sottovalutato l'eboli perché viene sempre passata l'eboli 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 comunque campione di italia un anni fa e poi abbiamo visto comunque è una squadra che si fa rispettare sistematicamente è una squadra secondo me di valore che abbiamo poi già paventato che arriverà fino in fondo anche l'eboli anche perché è una feldi che si è tenuta stretta venanzio è un venanzio che ha voluto la feldi tutt'oggi vabbè venanzio è un giocatore assoluto quando c'è stato due anni fa una grossa una grossa fetta di scudetto è stata sua perché ha fatto un playoff clamoroso quindi assoluto e poi al giocatore di affidamento quindi lo troveremo lo troveremo invece questo napoli che oltre a tenersi stretto borruta e salas e anche rinforzato la rosa no sì sì ma il napoli ormai ti ripeto questi sono la ristocrazia ormai del futsal italiano quindi non non ci vedo non ci vedo un'anomalia insomma perché un po tutte le squadre di vertice hanno effettuato dei colpi per tentare di ottimizzare poi il valore della squadra ma io voglio stuzzicarti no potrebbe esserci una sorpresa in questo weekend perché la sfida forse di maggiore rilevanza è proprio la sfida del pallalabinium fortitudo contro napoli ti chiedo se ci potrebbe essere una sorpresa anche perché sai benissimo giocare lì al pallalabinium quanto è complicato guarda io credo che la fortitudo non stia facendo male anche se sta non è che c'ha tantissimi punti però secondo me è una squadra che non va sottovalutata non va sottovalutata come per me nessuna perché il campionato è molto equilibrato l'abbiamo visto l'abbiamo visto pure con sicuramente ne parliamo del grande colpaccio che ha fatto la sala consiglina in casa della Roma la Roma 1927 Fussal è stato diciamo secondo me il risultato più clamoroso della giornata per una Roma che veniva dalla sconfitta nel derby quindi però ecco la la cosa è stata secondo me un grosso segnale a dimostrare che anche le neopromosse comunque si sapranno dire a loro certo e Lucia Avellino dopo la gara ha ammesso diciamo le colpe sue della sua squadra e ha detto che l'atteggiamento di chi vuole vincere determinate partite sapendo che tutte le squadre vengono sempre sul tuo campo per cercare di darti fastidio e dare e prendere punti soprattutto se ti chiami Roma e l'anno scorso sei arrivata prima nella regular season beh è ovvio che tutte le squadre danno il meglio di se stesse contro le formazioni più blasonate poi quest'anno con il nuovo nome e anche la nuova divisa sicuramente ha un appir diverso anche a livello degli occhi degli spettatori però Avellino è una persona che conosciamo molto bene è una persona è un grande campione e soprattutto un grande uomo quindi ha gli attributi per prendersi le proprie responsabilità e per sollecitare anche le responsabilità dei suoi compagni di squadra quindi anche secondo te è una Roma con un momento no ma che molto presto riuscirà a riprendersi? guarda i campionati si vincono a maggio adesso molti devono ancora trovare la quadratura molti hanno delle situazioni un po' complicate anche magari un po' fuori forma e quindi credo che adesso serve solo per dare dei segnali poi sarà il tempo a dire chi resisterà chi migliorerà e soprattutto chi si farà trovare nel massimo stato di forma nel periodo delle playoff che è quello decisivo perché è là che c'è la differenza l'abbiamo visto con Catania la scorsa stagione l'abbiamo visto con la Feddi ma lo vediamo un po' tutti gli anni tutti gli anni quando arrivi ci sono state anche tante formazioni che hanno fatto un percorso netto durante la stagione regolare e poi i playoff sono usciti o nel primo o nel secondo turno è un altro campionato proprio quello è un altro campionato a parte adesso abbiamo inserito una nuova challenge in questa puntata una challenge che faremo io e Roberto insieme ed è la challenge non devo preoccupare è un pochino sì dovrai essere onesto in questa challenge è la challenge che vedrà scegliere il miglior acquisto per la società di questa stagione quindi un acquisto Roberto che non guardare ovviamente il palmarès e la forza del giocatore ma quanto poteva servire a quella società in questo momento partiamo ovviamente da Riccardinio con fermate proprio Riccardinio appunto se dobbiamo guardare a storia o al maresse non lo mettiamo in conto non lo consideriamo non lo consideriamo consideriamo diciamo o magico lo leviamo e consideriamo tra virgolette i normali nessuno se la prenda perché sono tutti campionissimi però ecco Riccardinio secondo me è escluso da questa tipologia da questa lista ok allora challenge senza Riccardinio e io partirei da Paolo Cesaroni comprato dall'Active Network e dalla Fortitudo Pomezia e PESC del Benevento Cesaroni Cesaroni o Walex della Came Cesaroni manteniamo Cesaroni e qui se tu mi laviri il cardinio io ti metto Pablo D'Abborda quindi Cesaroni o Pablo D'Abborda e allora D'Abborda D'Abborda vice campione del mondo è arrivato con Nem anche Nem anche Nem ovviamente ma non ne puoi mettere quindi non ne possiamo mettere e poi D'Abborda non c'ha bisogno di presentazione insomma assolutamente però a livello di importanza io ti dico D'Abborda o Ugherani alla Felti? Ancora D'Abborda ancora D'Abborda ci chiamiamo D'Abborda D'Abborda o Tiachigno alla Fortitudo Pomezza nuovo numero 10 per D'Abborda 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 o o Itomeia ma io non ti metterei o Itomeia perché? perché voglio farti un collegamento dopo quindi ti metto D'Abborda o Saponara al Napoli? è ancora D'Abborda D'Abborda e ti metto Saponara perché? perché c'è stato uno scambio questa estate Saponara dal Napoli all'Ital Service che ha ceduto Caruso secondo te chi è che ci ha perso e chi ci ha guadagnato di più? guarda per me ha guadagnato il Napoli perché come è successo pure con il Cenzano quando l'ho ceduto la scorsa stagione per me Caruso a livello italiano è uno dei migliori in assoluto è uno che va a referto è uno che ha una qualità importante secondo me l'acquisto di Caruso è un acquisto molto importante quindi da bordo o Caruso? e allora cambiamo Caruso ci prendiamo Caruso in questo caso Caruso o Arillo alla Meta Catania? Arillo tanta roba e Arillo Arillo durato poco Caruso Arillo o Roberto Giampaolo fratello dell'allenatore del Petrarca Arillo anche se Giampaolo piccolo lo chiamo io perché suo amico anche del Pirata quindi sta facendo molto bene mi ha anche sorpreso sorpreso notevolmente per una squadra che non è che ha cambiato tanto esatto esatto allora Arillo o Cabeza della Piroossigeno Cosenza? Arillo 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 o Lucio Avellino? Lucio Lucio Avellino anche per una questione di affetti e del famoso metodo che lui capirà Lucio Avellino Avellino o Kenji della Sandra Pate che sta sorprendendo abbastanza? sempre Lucio Avellino Lucio Avellino o Pablo Vidal dello Sporting Sala Consilina arrivato dall'L84 qua è una bella sfida è una bella sfida è un bel match due ruoli diversi sì 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 per essere imparziali e non parteggiare fa il partigiano proprio per una questione di affetti di amicizia mettiamo Vidal Pablo Vidal Pablo Vidal o Mauro Canal del Vitulano? Canal Canal per Storia per tutto e allora l'ultimo Canal o Rocha che l'hai messo come MVP della stagione sì però qui parliamo di altro però non mi lascio condizionare quindi è una scelta tra la potenzialità e ti direi Rocha e invece il collaudato il sicuro garantito usando un termine automobilistico e quindi vai su Canal che c'è una storia che non va sicuramente presentata e quindi è Mauro Canal il giocatore scelto da Roberto come miglior acquisto della stagione caro Alessandro adesso il gioco lo faccio io quindi adesso sono io che devo preoccupare adesso te lo faccio io addirittura dalla casca te lo sei tirato fuori certo 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 da guardare allora io invece voglio lo start find ti do un'opzione Mammarella o Tornatore ecco credo che c'è la storia con un giovane molto promettente che si è appena laureato campione d'Italia io non escluderei neanche Bello Buono perché se dobbiamo guardare la stagione dell'anno scorso secondo me è stato il portiere che ha overperformato più di tutti che si è fatto più notare e che ha fatto parate più decisive tra quei due io prendo Mammarella Venanzio o Taborda non me copia a me qui è tosta è tosta perché parliamo di Venanzio di un giocatore che in questi ultimi anni ha scritto la storia della serie A del futsal però Taborda in queste cinque partite mi ha fatto impazzire e devo dirti che ho seguito anche il mondiale è un giocatore che per l'età che ha sposta gli equilibri quindi almeno per lo sfizio per lo sfizio prendo da borda ma scommesso Salas o Dimas allora quando hai detto Salas avrei detto direttamente Salas e Dimas Dimas è stato uno degli artefici del capolavoro dell'Olympus Roma dell'anno scorso che poi ovviamente si è spento ai playoff ma Dimas ha fatto ha fatto tanto ha fatto grande parte e porta pure la responsabilità della fascia al braccio però Salas tu chi prenderesti? io Salas Salas podda o sgro? i giovani che avanzano i giovani talici sai che c'è io quando ho iniziato proprio a seguire il futsal io ti guardo nel pensiero secondo me so chi scegli secondo te? no allora io non lo so da quando ho iniziato a seguire il futsal ho messo subito gli occhi su Antonino Sgro come ce li ha messi tutto il mondo in questi ultimi anni e certo che non mettere podda dopo la stagione che ha fatto l'anno scorso sarebbe Sgro mi perdonerai Michelino mi perdonerai Michelino mi hai fregato perché ero convinto che Michelino era la tua preferenza e qua è una bella cosa da monasticare Rocia o Borruto lasciamo fuori il signor Fortino lasci fuori tante perché è un gioco per tale va preso chi sono io per non dire Titi Borruto chi sono io il cobra Rocia no Rocia lo conosco Rocia è un giocatore che sicuramente è tra i migliori indiscussi di questo campionato ma Borruto è stato l'NVP totale della scorsa stagione e quindi ripeloghiamo la start five di Alessandro voi ovviamente siete liberi di sentire anzi dovete di sentire è Mammarella Taborda Salas Isgro e Borruto ragazzi cioè se prendiamo l'altra sarebbe Tornatore Venanzio Dimash un po' del Rocia una finale scudetto quasi è pure qualcosa di più e adesso aspettiamo ovviamente le vostre opinioni la vostra start five il vostro miglior acquisto di questa stagione la puntata possiamo dire che è finita è piena di contenuti abbiamo portato tante cose diverse rispetto all'episodio zero ma noi saremo sempre in evoluzione saremo una sorta di cambiamento continuo e riempiremo questo tavolo bianco prima o poi non spollerare niente è sempre il solito se la vuole subito cantare non c'è sta niente va bene rimanerò a Sanremo ringraziamo questo spiritoso di Roberto Martin e noi ci vediamo la prossima puntata ciao buonasera a tutti